L'estate che sembrava non voler finire mai ha fatto le valigie lasciando frettolosamente il posto all'autunno. In alto piano si è vista già la prima neve con un crollo delle temperature che ha portato alla colonnina di mercurio attorno ai 6 gradi in molte località del comprensorio. I fiocchi sono scesi invece sui rilievi più alti e già in mattinata i gestori della maga Lari Cd sotto hanno pubblicato sui loro social le foto del portule ammantato di bianco. La neve è arrivata anche sul Verena pur senza riuscire a creare un manto candido ma sono chiari segnali che l'ondata di caldo e siccità che ha attanagliato per lungo tempo l'altopiano dei sette comuni potrebbe essere davvero finita. L'arrivo del maltempo e l'abbassamento delle temperature potrebbe inoltre scombinare i piani di molte malghe dato che più di qualcuno aveva deciso di rimanere in alpeggio fino alla prima o alla seconda settimana di ottobre per approfittare della qualità dell'erba ancora presenti in altura. Ora però tutto è cambiato e la stagione delle malghe potrebbe finire anzitempo per lasciare il passo all'autunno con i suoi colori, il suo foliage e il suo indotto turistico molto importante per tutto il territorio.